Auto in fiamme Questa sera giovedì 20 dicembre intorno alle 22 in via Rivarola a Lombardore Si tratta di un alfa Romeo Giulietta Il conducente che stava viaggiando ha visto fuoriuscire fumo e poi fiamme dal sedile del passeggero Ha subito accostato e disceso Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco di Torino e Bosco Nero Che hanno domato e spento le fiamme Il conducente è rimasto fortunatamente illeso, ha certamente in corsa Il conducente è un po' più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.